Ma è tutto, è stato tutto, rimane tutto, è la mia squadra, non sono genovese ma sono genoano. Qualche aneddoto, uno in particolare che hai da raccontarci della tua lunghissima esperienza in maglia rosso-blu. Ho portato tante emozioni, sono state anche delle giornate negative ma con piacere ricordo quelle belle, ricordo le sfide in questo campetto, lo spogliatoio, il Pio dove ho passato 15 anni della mia vita. Quindi ho ricordi indelebili. Ma domanda, il futuro del Genoa come lo vedi? Direi bene, con l'arrivo di Ballardini è una squadra che ha ripreso a far risultato, a far buone prestazioni. È una squadra che secondo me ha valori importanti per tirarsi fuori dalla bassa classifica e quindi spero che possano far sempre meglio. Grazie. Grazie.